SIGLA Abbiamo una riunione inderogabile nel fine settimana. Ha promesso di portare via mia moglie e mia figlia, signore. Dobbiamo tagliare del 20%. Lei ha promesso a questa gente un buon lavoro. Non farebbe di tutto per questa impresa. Divertitevi. Che fare? Che fare? Che fare? Eh già, che fare? Tu! Christopher Robin! Sono distrutto. Ma non esagerare. Hai qualche ruga, quella sì. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!